La società e i tifosi si stringono intorno al vicepresidente Gianni Petrucci, a sua moglie rimasti coinvolti sabato pomeriggio in un incidente stradale nel Lazio e per fortuna non in pericolo di vita. Petrucci aveva assistito venerdì sera al pareggio interno col Sassuolo, primo risultato positivo alla Reca in tutto il 2024 per la Salernitana. Il conto alla rovescia è scattato da tempo e non riguarda solo il momento in cui la retrocessione sarà diventata realtà, anche per i numeri, ma soprattutto le intenzioni della proprietà. Le prime due settimane di aprile erano state indicate dall'amministratore delegato Maurizio Milan come quelle dedicate alla riflessione dalle valutazioni. Fini aprile sarà il momento delle decisioni. Si tirerà una linea e non si tornerà più indietro. Gli Revolino non ha chiuso le porti a possibili acquirenti, ma vuole vederci chiaro e nel caso lasciare alla cifra giusta e rimani giusta la Salernitana. Nel caso in cui non si dovesse presentare nessun soggetto ritenuto credibile, il Presidente andrebbe avanti. Venerdì sera alla Ricci c'era il DS del Napoli Mauro Meluso che difficilmente resterà alla corte di De Laurentiis e che in carriera ha già avuto diverse esperienze in B. Potrebbe essere un candidato al ruolo di direttore sportivo, ma bisognerà prima capire se Gli Revolino vorrà proseguire con Walter Sabatini affidandogli un ruolo da consulente oppure se anche con l'attuale DG il rapporto si chiuderà a fine campionato. Il Presidente sta anche ragionando sul cambio di prospettiva che comporterà la Serie B. Se dovesse restare alla guida del club, Gli Revolino punterebbe ad una riduzione drastica dei costi, compresi anche quelli del personale. La Salernitana paga stipendi altissimi non solo per quanto riguarda il comparto tecnico. Per ciò che concerne la squadra si punta a cedere Diaculi, Bali, Pirola, Lovato e Daniuk per fare cassa. L'Austriaco sarà riscattato dal Salisburgo per una cifra intorno a 6 milioni e mezzo di euro. C'è poi la carta Ciaona, ingaggiato da De Santis a costo zero dal Ren con percentuale sulla futura vendita. L'attaccante esterno francese, classe 2003, è finito nel minore di diversi club italiani ed europei. Tra questi anche il Brighton di De Zerbi che ha sondato il DG Sabatini per avere un'idea della cifra che la Salernitana riterrebbe adeguata per cedere il calciatore che sarà titolare anche venerdì sera all'Olimpico contro la Lazio di Tudor. Per lui sarà l'occasione per mettersi ulteriormente in mostra su una ribalta importante.